Benissimo, anche oggi siamo arrivati qua su, ok, e dopo una mattinata che è andata, che ha dato del filo da sdoricere, come si dice, eccoci, subito andiamo verso la vittoria, perché bisogna subito andare oltre, andare verso il positivo, allora io sono salito al Monte Generoso, ecco, 1450 metri di dislivello, siamo su, ecco il bellissimo paesaggio, come vedete siamo di nuovo qua, c'è il lago di Lugano, in un'ora e 48 siamo al punto panoramico, per poco meno di 10 chilometri, in un'ora e 40 siamo saliti da Mendrisio, invece al Fiore di Pietra, la costruzione dell'architetto Potta, per 9.75 chilometri. Bene, due anni fa mi ero allenato per fare questa salita fino al Fiore di Pietra, avevo corso questo trail del Generoso in un'ora e 39 e 40 secondi, se ricordo bene. Oggi siamo un'ora e 40, mi sto allenando per una ultramaratona di 119 chilometri, e non alleno di sicuro la velocità, però oggi la potenza c'era. Adesso si torna indietro, si salutano queste meraviglie, e vi saluto anche voi, seguite sempre la strada del positivo, sempre più, oramai che mai, sempre vai avanti, e vai avanti anche quando una cosa non era buona come lo volevi tu, come è successo a me stamattina, ma gira subito la frittata e passa una cosa molto positiva, come questa scalata del Monte Generoso. vai, sempre cerca quello che ti fa star bene, cerca la vittoria, cerca il punto migliore della tua persona, inteso come il tuo essere. Un abbraccio a tutti, passate una buona giornata, un buon riposo dopo questa bella giornata di lavoro, se avete lavorato, o di creazione, o di qualsiasi cosa. Auk, un abbraccione, ciao!